E prima di chiudere vi devo raccontare di un appuntamento anzi a un evento che avviene nel comune di Zibido San Giacomo nel contesto della ventitresima edizione della festa del riso ci sarà domani sera alle 19.30 una corsa e camminata non competitiva di 7 km attraverso le campagne al tramonto appunto tra parentesi posso dire non ci sono ancora le zanzare quindi in questo momento riusciamo forse a farla bene sono contento di dare questa notizia perché appunto ci arriva dagli amici del festa del riso del comune di Zibido San Giacomo che ci ascoltano la mattina quindi ben contento di raccontarvi un po' di questa iniziativa domani sera appunto dalle 19.30 partenza della camminata non competitiva attraverso le campagne di Zibido San Giacomo con partenza da Piazza Roma appunto a Zibido San Giacomo e poi e poi la cosa perché il Fabio dice è la più interessante qual è? siamo arrivati a parlare in terza persona vabbè fa niente che all'arrivo intorno alle 20.30 c'è il risotto eh attenzione perché appunto è la festa del riso quindi risottata poi alle 20.30 all'arrivo di questa camminata comunque trovate tutto su Magic Sport SSD su Facebook su SSD Magic Sport su Instagram tutte le informazioni che volete le trovate lì per la camminata non competitiva alle 7 km all'interno della festa del riso di Zibido San Giacomo domani sera alle 19.30 Grazie a tutti